squalo mi senti? mi senti? eh non ti sento? prova a vedere la casa fuori qua se c'è qualcosa vai vai la tiro la tiro anche sul tetto merda porca troia quanti micchia sono? no cioè ciao de ciao quanti sono? e risanguino un'altra volta levallateli i zombie? tiè beccateli vado torno verso la chiesa dopo questa alquanto travagliata introduzione siamo arrivati alla police station e vi mostrerò le novità che già state vedendo di questa ultima patch intanto buttiamo giù sto zombie che figata ragazzi finalmente e già la missione sarà riuscire ad uscire dalla police station perché come minimo mi accoppano finalmente hanno inserito la balestra guardate la balestra di Daryl è una figata finalmente si riescono a ammazzare i conigli ecco mettiamola così no? perché e l'arco ovviamente dovete tirare secondo un certo criterio no? comunque dovete prendere di mira il bersaglio e se il bersaglio è una certa distanza dovete tirare ovviamente a come si dice a Livorno a strombola mentre con la balestra ovviamente il dart il quadrello va diretto quindi si può iniziare a mirare direttamente al bersaglio alla testa senza bisogno di alzare abbassare la mira ma la figata è che guardate mettendola in prima persona ha anche il mirino ha anche l'ottica montata sopra e quindi io va sicuro non è come l'arco che nel pvp si tende ad usare molto di più le armi da le armi da fuoco ma questa volta la balestra diventa veramente un oggetto di guerra secondo me un'arma indispensabile e poi al trafigata hanno introdotto molti più slot ora poi vi farò vedere la parte finale una cosa che a me ha interessato molto c'è lo slot per la faccia che ne so volete mettermi una benda o una cosa del genere lo slot per gli occhi dove io vedete c'ho il visore notturno finalmente hanno inserito anche cioè è già qualche patch non è l'ultima però hanno inserito anche il visore notturno guardate qua che spettacolo si riesce a vedere anche di notte per quanto non è Daisy qui la notte non è buissima quindi si riesce a vedere comunque lo slot per la testa quindi elmetti, cappelline e cose del genere lo slot per le mani lo slot per l'armatura ma soprattutto la cosa più bella è il crafting che finalmente gli oggetti si possono craftare tutti insieme senza doverne stare a craftare uno per uno ora vi faccio vedere intanto vediamo se riesco a uscire da qui allora ragazzi mi sento Daryl e ovviamente le frecce si possono recuperare quindi se io vediamo un po' se lo smembro ci dovrebbe essere la freccia no la freccia si è rotta comunque si si possono recuperare perché ne ho recuperato un bel po' fino a ora mi diverto da morire calandomi le panni di Daryl di The Walking Dead ti è vaffanculo anche te vediamo se c'è qualcosa di loot almeno solo il cappellino e a questo punto voglio tirare una bomba a mano agli zombie che sono che ha lasciato la porta della polissa peta sento che c'è eccola eccoli ragazzi quindi proviamo a tirarci una bomba a mano troppo lunga cazzo perché la tirate tutte ah perché ne tiene una sola in mano vabbè giustamente non è che ne può tenere 150.000 reequipaggiamo un'altra bomba a mano che la voglio tirare nel mucchio allora l'altra bomba a mano eccola qui è meglio tirarle forse in prima persona perché vedo che proprio appare il mirino per dove cadrà quindi sì vi consiglio le bombe a mano e tirarle in prima persona e vi faccio vedere se non mi cecchinano c'è il mirino della balestra ragazzi merda c'è uno dietro c'è finalmente il mirino della balestra per tirare bene anche in prima persona spettacolo spettacolo il mirino sulla balestra è veramente il tocco il tocco d'arte oh meglio di Daryl questo sono il redere no cazzo mancato l'ho preso in una spalla preso no mi sento è bellissima ragazzi la balestra è diventata la mia arma preferita in questo gioco vi giuro ve lo faccio vedere dall'inventario non c'ho armi da fuoco tengo solo la balestra perché mi piace da morire però è quasi rotta si fanno le stragi ovviamente ci mette più tempo rispetto all'arco a ricaricarsi però con la balestra abbiamo trovato finalmente la maniera di fare una strage di zombie sempre stando ovviamente molto silenziosi ora voglio provare la bomba a mano vediamo un po' se riesco a tirarcela qua giù no questo ha iniziato a correre quindi niente ammazziamolo così ok e bomba a mano dobbiamo tirarla andiamo vediamo 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 se becca bish ti ha fatto una strage spettacolo veramente ragazzi guardate quanti zombie hanno introdotto finalmente gli sviluppatori hanno capito che in un gioco apocalittico con ambientazione zombie appunto i miei preferiti devi mettercene tanti ce ne devi mettere veramente tanti deve essere infestata i campi no cioè i campi le paludi i boschi meno però le città cioè guardate quanti ce ne sono ragazzi guardate quanti diamine ce ne sono cioè è uno spettacolo cala un pochino più di fps il gioco dopo questi aggiornamenti perché ne faccio sempre sulla sessantina ma ogni tanto scende anche a 30 ma è normale perché c'è una miriade di zombie roba assurda però a noi ce piace e mi sento molto Daryl Dixon quindi va anche bene e finalmente hanno capito che ti devono far fare il crafting tutto insieme per quanto lo dovrebbero mettere anche per il cibo tipo le more non che ne mangi una alla volta ma che le mangi tutte insieme vediamo un attimo se riesco a fermarmi ok vediamo se riusciamo a caccia che mi è piaciuta veramente da morire è stato scendere nella stanza delle armi della police station c'era un tizio arroccato dentro che mi sparava gli ho tirato la flashbang lo ho cercato e poi sono entrato anch'io è quello secondo me è un altro spettacolo che dire ragazzi secondo me H1Z1 sta procedendo nel migliore dei modi hanno fatto il wipe un'altra volta dovrebbe essere l'ultimo wipe perché dalle prossime patch inizio giugno dovrebbero iniziare a tirare fuori le stagioni quindi inizierà a nevicare rinizierà a piovere vi ricordate come prima che parlano tolta perché dava dei problemi sono tutte cose già presenti nel gioco ma che ovviamente inseriranno un po' per volta ragazzi la neve quando nevicherà morirete dal freddo quindi vi dovete accendere dei fuochi la notte perché se no la vita scenderà molto velocemente che dire spettacolo e speriamo che procedano gli aggiornamenti così perché la soia da quando ha passato a daybreak mi sembra che gli aggiornamenti ne stiano facendo molti di più rispetto a quando erano appunto sotto soia ragazzi fatevela prendere bene spero che il video vi sia piaciuto tanti bei like se volete dare una mano al canale condividetela anche su google plus da daryl è tutto alla prossima che spettacolo la balestra che spettacolo iscriviti al canale